In questo video voglio darvi i tre migliori consigli da musicista che io stesso ho ricevuto li ho ricevuti dai miei insegnanti e sono dei consigli che mi ritrovo praticamente ogni giorno e la mia fortuna è stata avere a che fare con degli insegnanti che oltre a essere preparati musicalmente sono anche delle persone splendide che hanno saputo darmi tanto anche umanamente e questi tre consigli che vi darò oggi sono frutto appunto di questi insegnamenti il terzo in particolare al giorno d'oggi è importantissimo partiamo dal primo consiglio che è non ti affidare solo ai concerti quando impariamo a suonare uno strumento lo facciamo per poter suonare dal vivo per poter creare della nostra musica, per poterci esprimere e soprattutto quando si affronta uno studio di tipo classico come sono gli studi che ho fatto io la prima finalità, il primo obiettivo a cui si pensa è quello di diventare dei concertisti e io tra i miei insegnanti ho avuto la fortuna di avere dei concertisti di un certo calibro e proprio uno di questi un giorno a lezione ha detto a me e agli altri presenti non vi fermate, cioè non pensate solo ai concerti ci ha detto io suono in tutto il mondo, sapete chi sono, sapete l'importanza che ho nel panorama chitarristico e se insegno in conservatorio fatevi due domande e queste parole mi hanno dato da pensare perché era già un periodo in cui cercavo di muovermi di sondare il territorio per cercare di capire cosa potevo fare lavorativamente come musicista come potevo spendermi al di là dei concerti, al di là delle lezioni e queste parole dette da quella persona hanno dato ancora più peso a quello che stavo facendo mi hanno spinto a cercare di esplorare ancora di più quali erano effettivamente i miei sbocchi lavorativi per differenziare il mio lavoro ed evitare appunto di trovarmi senza nulla da fare da un giorno all'altro perché in sostanza stiamo parlando di quello quindi se anche voi state basando la vostra attività musicale principalmente su un'attività che siano i live, che sia l'insegnamento, che sia la pubblicazione musicale online, qualsiasi cosa guardatevi un po' intorno, cercate di capire cos'altro potete fare perché sarà quello che vi permetterà piano piano nel tempo di creare un'attività musicale sostenibile e solida che è un po' la filosofia che c'è dietro musicista smart e dietro la musicista smart academy tra l'altro ti lascio il link all'academy nella descrizione di questo episodio perché se vuoi approfondire questi temi li troverai veramente tanto di utile e puoi ancora provarla gratis per due settimane quindi approfittane affinché puoi un secondo importante consiglio che ho ricevuto sempre da uno dei miei insegnanti è seleziona quello che fai perché nel momento in cui inizi a guardarti intorno inizi a cercare di fare un po' di tutto per lavorare guadagnando un po' da qui un po' da lì eccetera eccetera la cosa più semplice, la cosa più probabile che inizi a fare è che inizi a prendere lavori di tutti i tipi che è una cosa buona da fare all'inizio quando bisogna appunto creare lo zoccolo duro su cui puoi costruire tutta l'attività musicale no? però arrivati a un certo punto poi bisogna iniziare a selezionare bisogna iniziare a dire di no ad alcune cose che non rispecchiano il nostro modo di lavorare o non rispecchiano il livello lavorativo che noi vogliamo mantenere non rispecchiano la paga che noi riteniamo adeguata per ciò che facciamo insomma iniziare a selezionare e a far capire che non siamo proprio sempre disponibili per tutti questa è una delle cose che ancora oggi viene più difficile da fare a me perché sono una persona che cerca di essere sempre disponibile, sempre pronto per gli altri anche a costo di andare contro quelli che sono i miei interessi ma nel percorso di scrematura del lavoro che sto facendo da un po' di tempo sta facendo veramente la differenza questo consiglio qui quindi se siete nella condizione di poterlo fare selezionate ciò che fate e non dite di sì a tutto e a tutti. L'ultimo consiglio importantissimo che soprattutto al giorno d'oggi fa veramente tanto la differenza e va assolutamente seguito è non smettere mai di imparare perché solo continuando ad imparare, continuando a studiare continuando a migliorare le proprie abilità, migliorare le proprie conoscenze e ampliare le proprie conoscenze ci può permettere di diventare dei musicisti sempre migliori sempre più appetibili come fornitori di servizi e sempre più preparati e questo sul lungo periodo soprattutto ci aiuta tantissimo a differenziarci dagli altri quindi non pensare che se tu hai studiato pianoforte lavorerai solo con cose che hanno a che fare strettamente con il pianoforte, tu puoi lavorare con la musica in generale, devi ampliare le tue conoscenze così come io sono chitarrista di formazione ma non tutti i lavori che faccio hanno a che fare strettamente con la chitarra quindi nel momento in cui sto pubblicando questo video siamo in estate, sfruttate l'estate per migliorarvi se stai guardando questo video in un altro periodo invece sfrutta i momenti liberi che hai per migliorarti e oggi hai tantissime risorse a disposizione per poterlo fare ci sono tanti corsi, ci sono tante risorse online c'è la musicista Smart Academy che di nuovo puoi ancora provare gratis per due settimane ti lascio il link nella descrizione di questo episodio insomma le occasioni per migliorarsi non mancano e sfruttiamole io vi ringrazio per aver guardato anche questo episodio vi aspetto nell'Academy se vi va di dargli un'occhiata altrimenti ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!